Musica 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 Ciao ragazzi, vediamo di questo nuovo video Si lo so Sto registrando alle 23 Vedi mio papà e mia mamma sono dormito Ma è lo stesso Oggi vi voglio far vedere Un nuovo cambiamento nella mia stanza Che sarà un piccolissimo cambiamento Lo sarà di quelli pesanti Ah si La beta Sono ritornato alla beta Robert mi dispiace Mi dispiace tutto il mio cuore Ma ormai L'ho già fatto Lo so Ecco Adesso Ragazzi non darà fastidio mai Se adesso Vuoi fare il domenica Io non posso scendere No dai Fatti presentare dal video Adesso arrivo Adesso Adesso arrivo Ok Allora Comunque La mia stanza qua fuori Lo vedete già Normalmente Quindi Posso dire 44,18 Vediamo di disturbare Ed ecco qua Il pezzo Aspetta ho sbagliato Non ho dovuto spegnere Ecco fatto Riproviamo Qua vedete Qua vedete Qua vedete Qua vedete Buongiorno Sì Per niente Ok apriamo la porta E possiamo vedere già Il computer Sì Ho già allargato la tavola Ho fatto alcuni cambiamenti Porco cane Ho sbagliato Ok Questa è la tastiera Il mouse E poi il pezzo forte Con questo si può Accendere il computer Non è figo? Cioè Secondo me è fighissimo Premere Una cosa fighissima Cioè Fa anche luce Ma dettagli E comunque Sembra più scuro così Poi Ti metto più chiaro Dopo sarà figo Non credete? È figo? Vedetemi che è figo Per favore Perché sennò Mi sento inutile Porco cane Sì Anche questo sarà un video corto Quindi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao